Ammettiamolo, nella Chiesa Cattolica ci sono molti personaggi che amano circondarsi di mistero. Nel Vaticano la segretezza è una fede. Non dimenticate che il Papa ha un proprio corpo diplomatico, i cui membri operano in varie parti del mondo e che fanno capo direttamente a lui. Tutti i loro rapporti vengono inseriti nell'archivio del Vaticano, che non a caso viene chiamato significativamente l'archivio segreto. Il Vaticano non ama rendere di pubblico dominio le proprie strategie, le tattiche, le proprie paure, le speranze. E non deve rendere conto a nessuno. È un'entità indipendente, uno Stato sovrano ai cui vertici c'è il Santo Padre. Lo Stato della città del Vaticano viene istituito nel 1929, quando il primo ministro è Mussolini. Il che è curioso perché Mussolini, la cui madre è cattolica, in gioventù è un feroce anticlericale. Ma sa bene che la Chiesa è potente e che ha bisogno del sostegno dei cattolici. Quindi il leader fascista si sforza a dimostrarsi ben disposto nei confronti del Vaticano, concedendogli mano libera. Il Vaticano non è solo una città, non è solo uno Stato, è un paese del tutto indipendente. È più piccolo di Disney World, ma come Stato sovrano è in grado di creare le proprie leggi. La città del Vaticano comprende la Basilica di San Pietro, la Cappella Sistina ed è la sede temporale del Papa, Vescovo di Roma e Vicario di Dio, che è la guida di più di un miliardo di cattolici. Subito sotto di lui c'è il Collegio dei Cardinali, composto da 178 membri che consigliano il Papa e alla sua morte ne eleggono il successore. Al di sotto abbiamo gli arcivescovi, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi sparsi in tutto il mondo, ma nei 44 ettari dello Stato Vaticano vivono solo 800 membri della Chiesa. E da questa piccola entità e dal suo sovrano, il Papa, arrivano leggi e dottrine che influenzano il mondo intero. Ritiene che il Vaticano voglia impedire la divulgazione di questi segreti? Ecco, dipende da cosa intende per segreti. Ci sono parecchi scheletri negli armadi del Vaticano, soprattutto per quanto riguarda Giovanni Paolo I. Albino Luciani, il futuro Giovanni Paolo I, è un uomo gentile e mite. Cerca persino di evitare la nomina, sostenendo di non esserne all'altezza. All'epoca sta cominciando a montare uno scandalo che investe il sistema bancario Vaticano ed è possibile che Papa Luciani sia consapevole di ereditare un sistema corrotto fin nel midollo. La sua morte è stata straordinaria perché è avvenuta appena 33 giorni dopo la sua elezione. Molti ipotizzano che se fosse sopravvissuto avrebbe cambiato parecchie cose nella Chiesa Cattolica. Naturalmente, se consideriamo la quantità di segreti di cui il Vaticano è stato al corrente nella sua lunga storia, non possiamo saperlo con certezza. Se Papa Luciani fosse rimasto in carica avrebbe creato una Chiesa più umana e umile, ma in passato sono stati molti a sostenere che ci sia stato un complotto per ucciderlo. Giovanni Paolo I ha un preciso obiettivo, rendere la Chiesa meno paludata e sradicare la corruzione nel Vaticano. Luciani dichiara di voler fare pulizia e questo forse gli costa la vita. Se c'è una persona che sa cos'è accaduto, quella è Suor Vincenza, che è la prima a trovare il Papa la mattina della sua morte. Perciò, prima di parlare di omicidio, dobbiamo sapere che cosa ha visto e dove è andata. Dobbiamo ascoltare la sua storia. Dunque, Giovanni Paolo I intendeva essere un riformatore, ma è morto dopo appena 33 giorni di pontificato. Sì, è così per sommi capi e da qui nascono tutte le polemiche sulla sua morte. Abbiamo un Papa riformatore che ha intenzione di avviare un'indagine interna su ciò che è avvenuto alla fine degli anni 70. E qui ti uccidono per questo? E questo pone dei problemi. A quanto pare non è sorpreso dall'ipotesi che il Papa possa essere stato ucciso. Come potrebbero aver fatto? Come potevano con tutta la gente di cui si circondava? L'ipotesi acclarata è che forse potrebbe essere stato, ecco, avvelenato o che possano aver usato in qualche modo le medicine che prendeva. È un dato di fatto che Giovanni Paolo primo avesse problemi di cuore. Qualcuno potrebbe aver usato le medicine, cioè potrebbero averle portate via o sostituite con qualcos'altro. Esatto, questo sì, è possibile. Sarebbe perfetto perché sembrerebbe morto per cause naturali. Esatto. In base al diritto canonico e alle leggi che governano questo Stato sovrano, sul pontefice non si può effettuare alcuna autopsia e magari qualcuno potrebbe insinuare che certe leggi sono state create per pura convenienza. rappresentano una scappatoia preziosa che non prevede alcuna eccezione. Quindi, secondo lei, le leggi che impediscono un'autopsia sul Papa hanno lo scopo di stroncare sul nascere eventuali polemiche alla morte del pontefice? Sì. Che è accaduto alla prima persona che lo ha trovato? Era una suora, no? Le è stato imposto il vincolo dell'obbedienza e questa è un'altra scappatoia molto conveniente, prevista dal diritto canonico. Si può obbligare una persona che ha preso i voti a fare o a dire qualcosa, ma anche a non dire o fare nulla. Quindi, anche se la suora che ha trovato il cadavere di Luciani avesse visto qualcosa di utile a un'eventuale indagine, in base a quel vincolo potrebbero averla obbligata a dire o fare qualcos'altro. Sì, in questo non c'è nulla di sorprendente. Perché ha preso i voti? È così che funziona. È il suo modo svivendi, il suo modo di vivere. Questo è il sogno di ogni avvocato corrotto. Di solito, per far tacere un testimone, si cerca di corromperlo, minacciarlo o eliminarlo. Ma se si tratta di una suora, basta invocare il voto del silenzio. Un conto è obbedire a un essere umano. Un altro è obbedire a Dio, che parla per bocca di un essere umano. Quando Dio parla per bocca di un essere umano, che è anche il tuo superiore al Vaticano, e lui viola uno dei dieci comandamenti, devi obbedire comunque? A quel punto, per rispetto nei confronti del pontefice, è meglio evitare commenti. Quindi, essendo uno Stato indipendente, con proprie leggi, come la storia dell'obbedienza, per non parlare del segreto della confessione, la Chiesa dispone di un potere incredibile. Sì, probabilmente si tratta del sistema più sofisticato, complesso e sicuro che sia attualmente in funzione. E negli ultimi tempi non c'è mai stato qualcuno che ha pensato, è ora di porre fine a tutto questo? Ecco, tornando a Giovanni Paolo I, sembra che abbia fatto un tentativo. Certo. E purtroppo un mese dopo è morto. Wow. È accaduto qualcosa di strano, c'è qualcosa che proprio non torna. Ma possiamo solo lasciare che ognuno tragga le proprie conclusioni. I fatti... Secondo lei? I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Secondo me non c'è nulla dichiarito. Chi mai potrà scoprire la verità? Il Vaticano fa quello che vuole. Roma è eterna. Lei ritiene che alla fine qualcosa verrà a galla? La cosa triste è che semmai la verità dovesse davvero saltare fuori e se fosse inquietante, probabilmente noi non ci saremo più da tempo. Quindi lei pensa che il Vaticano sia corrotto? Sì, senza alcun dubbio. Ma non c'è nulla di sconvolgente in questo, perché lo è stato per tutta la storia. La corruzione è un qualcosa che ha accompagnato l'umanità per millenni, sin dai tempi dell'impero romano. E il Vaticano in questo non fa eccezione. Quindi nella Chiesa non fa che prevalere un sistema di potere che è esistito sin dalla notte dei tempi, a prescindere che Giovanni Paolo I sia stato ucciso o meno nel 1978. Secondo Eric, la corruzione non è affatto infrequente in Vaticano, anzi, sarebbe la norma. Ma nonostante la gravità di queste affermazioni, è presto per tirare le somme. Dobbiamo ascoltare tutte le campane. Non tutti i papi sono sepolti sotto la Basilica di San Pietro. Ce ne sono alcuni i cui resti si trovano da qualche parte sotto il letto del Tevere. Quindi, anche se i sospetti fossero fondati, se la morte di Luciani non fosse dovuta a cause naturali, il suo non sarebbe il primo caso del genere. Trovo un po' strano che lei non sia sorpreso dal fatto che un papa possa essere stato ucciso. No, purtroppo no. La cosa non mi sorprende per niente. Negli Stati Uniti, in un caso simile, i testimoni comincerebbero a parlare per i sensi di colpa, per vantarsi, per confessare. Ma secondo lei... Siamo a Roma. A Roma. Non siamo in America. Quando si pensa al Vaticano, si pensa alla Cappella Sistina e a San Pietro, luoghi che rivestono grande significato per i cattolici. È comprensibile. Ma abbiamo scoperto che dietro questi capolavori potrebbero celarsi forze occulte che potrebbero essere responsabili della morte di un pontefice. Ma come può un'organizzazione così in vista far passare sotto silenzio un crimine così dirompente? Non è difficile come pensate. Alcune persone con cui abbiamo parlato sostengono che il Vaticano sia un'organizzazione molto misteriosa che nasconde un sacco di segreti. Non devono rendere conto a nessuno. L'unico a cui devono rispondere del loro operato è Dio. Il mondo può giudicarli, può condannarli, ma quello che conta davvero è il giudizio dell'Onnipotente. La gente cerca la verità. Alla fine c'è sempre qualcuno che cerca la verità, ma se i suoi intenti sono nobili e il suo cuore è puro, la troverà. Beh, ci troviamo accanto a delle mura enormi che forse ci impediscono di trovare questa verità, almeno secondo alcuni. Sono mura antiche, sono una protezione. Il Vaticano è uno Stato autonomo, quindi a confini definiti. Sono come qualsiasi altro Stato. Alcune informazioni sono riservate. Tutti i governi hanno dei segreti. Questo vale anche per i dirigenti di grandi aziende, per i capi famiglia. Da come la mette sembra quasi che facciamo tutti parte di una grande famiglia e che i cardinali siano per noi l'equivalente di una figura paterna che sa cosa è meglio per noi. Sì. Non è insolito che il Vaticano occulti certe informazioni. Forse il migliore esempio al riguardo sono i tre segreti di Fatima. Si racconta che il 13 maggio 1917 la Vergine Maria appaia a tre pastorelli portoghesi analfabeti e gli riveli tre profezie. Riappare puntualmente per sei mesi, ogni 13 del mese, e a quel punto la notizia del miracolo si diffonde e sul posto si raduna una folla di 70.000 persone. Migliaia di loro affermano di aver visto il sole cambiare colore, roteare e danzare nel cielo. Personalmente lei crede alle profezie di Fatima? Sì, credo che la Madonna, la madre di Gesù, abbia parlato ai tre bambini di Fatima, una città del Portogallo. Il miracolo affascina i cattolici di ogni parte del globo. A qualche anno di distanza dall'evento, i due bambini più giovani muoiono di influenza. Ma la più grande, Lucia, si fa suora e racconta le profezie alle autorità vaticane. La prima profezia preannuncia la Prima Guerra Mondiale. La seconda, il ritorno del cattolicesimo in Unione Sovietica. E si realizzano entrambe. Suor Lucia sostiene che la Vergine Maria le avrebbe chiesto di rivelare il terzo segreto prima del 1960. Ma è solo nell'anno 2000 che il Vaticano la rende di pubblico dominio. A mio avviso, quei bambini hanno raccontato onestamente le profezie alle autorità ecclesiastiche. E credo che la Chiesa abbia rivelato al mondo tutto quello che c'era da sapere. Caso chiuso? Sì. Il Vaticano è stato al centro di inchieste e articoli decisamente poco lusinghieri. Si parla di corruzione. È risaputo da sempre che la Chiesa è composta da santi e peccatori. Sono esseri umani, commettono errori. Ma hanno la convinzione che sia lo Spirito Santo a guidarli e che alla fine li condurrà alla verità. E dunque rimedieranno ai loro errori. È stato Cristo a dirci che le porte dell'inferno non prevarranno contro la Chiesa, che nel corso della storia la Chiesa sopravviverà. Non trova strano che Giovanni Paolo I sia morto dopo appena 33 giorni di pontificato? Sì. Credo che chiunque si sorprenda quando un Papa muore a pochi giorni di distanza dalla sua elezione. Credo che il mondo intero sia stato colpito di sorpresa dalla sua morte avvenuta dopo un mese dalla sua investitura. Ma non credo che nessuno avrebbe potuto uccidere il Papa o avvelenarlo. Se fosse successo, a quest'ora si sarebbe saputo. I colpevoli sarebbero stati puniti. Se fosse stato davvero ucciso, qualcuno sarebbe stato processato. E invece non è successo niente. E non è successo perché non c'è stato nessun omicidio. Dunque lei non ha mai pensato a possibili scandali interni, assassini o qualcosa del genere? Omicidi? No. È morto per cause naturali. Non c'è stato nessun delitto. Da quanto abbiamo appreso, naturale non è l'aggettivo che useremmo per descrivere la morte di Giovanni Paolo I. Volete sapere il terzo segreto di Fatima? Quello che il Vaticano ha custodito per quasi 40 anni? Ci sono diverse teorie, ma una che sono molti a sottoscrivere è che profetizzasse l'omicidio di Papa Albino Luciani. Che può dirci sul terzo segreto di Fatima? È una profezia drammatica. Descrive una scena degna di una guerra, in cui c'è una città che è stata quasi completamente rasa al suolo da un bombardamento. E poi c'è un vescovo vestito di bianco, che attraversa la città e vede cadaveri dappertutto. Prega per loro, sale su una collina e viene assassinato sotto una croce. È stato ucciso da frecce e pallottole. Sappiamo che secondo alcuni il contenuto della profezia sarebbe stato manipolato. Alcuni hanno analizzato con attenzione cosa era stato detto a proposito delle profezie e hanno preso nota di tutti i passaggi del documento che conteneva il testo. Quando è stato consegnato al Papa, quando è stato restituito, per quanto tempo è rimasto in un certo posto. Tutte queste informazioni frammentarie, pur non essendo molte, fanno sorgere diversi dubbi e quindi molti ipotizzano che il contenuto sia stato censurato. Perché il Vaticano lo avrebbe fatto? Ecco, c'è una scuola di pensiero secondo cui la parte mancante del terzo segreto di Fatima avrebbe a che fare col dissenso che coverebbe all'interno dei vertici della Chiesa Cattolica. Farebbe accenno alla corruzione nella Chiesa, al coinvolgimento dei massoni e quindi qualcuno sostiene che non sia stata divulgata per non dare l'impressione che la Vergine ce l'avesse con le gerarchie ecclesiastiche. Qui nasce un problema interessante per la Chiesa. Se una persona punta il dito sul Vaticano denunciandone la corruzione è la sua parola contro quella del Papa, di cardinali e vescovi. Ma se è scritto nelle profezie di Fatima, di colpo è la parola del Papa contro quella della Vergine e nessuno vuole un simile avversario. Qui non è in discussione se la Madonna sia apparsa o meno ai tre pastorelli. Nel momento in cui il Vaticano avalla le apparizioni, quello che importa è il contenuto delle profezie. Per alcuni il primo segreto preannuncia la Prima Guerra Mondiale e sembra essersi avverata. La seconda profezia viene interpretata come una previsione del ritorno del cristianesimo in Russia e anche questa si avvera. Visti questi precedenti, non sorprende che nell'anno 2000 la rivelazione del terzo segreto sia preceduta da un'attesa spasmodica da parte dei fedeli. Per molto tempo si è creduto che il terzo segreto di Fatima sia stato scritto su un foglio di carta e che consistesse di circa 25 righe. Quella che viene pubblicata nell'anno 2000 era su un foglio di carta, ma ripiegato, quindi consiste in quattro facciate. Quindi ci sono più di 60 righe scritte da Suor Lucia. Ora c'è da aggiungere che Lucia voleva che il segreto fosse rivelato nel 1960. Lei ha insistito, sostenendo che era stata proprio la Vergine Maria, a chiederglielo, ma Giovanni XXIII non l'ha accontentata, ha preferito glissare e nessuno ha mai capito il perché il pontefice non lo ha mai spiegato. Suor Lucia trascrive le profezie in una lettera di una pagina che invia al suo vescovo, lettera osservata da diversi testimoni. Tuttavia, quando il Vaticano rivela il terzo segreto, quella che compare non è una lettera e le facciate sono quattro e non una. Gli scettici sostengono che il Vaticano stia presentando un proprio documento. Se ne sono dette di tutti i colori su questa cosa e quindi esistono diverse teorie, di cosa parla il terzo segreto? Secondo una prima ipotesi, punterebbe il dito sulle gerarchie ecclesiastiche, re e di non impiegare le cospicue risorse della Chiesa per il bene dei propri fedeli, ma di usarle invece per propri scopi. Secondo altri, invece, avrebbe a che fare con Giovanni Paolo I. Nel testo del terzo segreto divulgato nel 2000 si legge quanto segue. Il Santo Padre attraversò una grande città mezza in rovina, mezzo tremolo con passo vacillante, afflitto di dolore e di pena. Pregava per le anime dei cadaveri che incontrava nel suo cammino. Giunto alla cima del monte, prostrato in ginocchio ai piedi della Grande Croce, venne ucciso da un gruppo di soldati che gli spararono vari colpi di arma da fuoco e frecce. Molti vedono nella città in rovina il Vaticano lacerato. Giovanni Paolo I sale in cima alla montagna, ovvero sale sul trono pontificio e ben presto viene ucciso lasciandosi dietro una scia di cadaveri. Un anno prima di diventare papa, Albino Luciani ha effettuato un pellegrinaggio a Fatima e ha avuto un'udienza con Suor Lucia durata un paio d'ore. Dopodiché è andato in vacanza con suo fratello e altre persone. Tutti dicono che era molto turbato. Il fratello Edoardo ha dichiarato che Luciani era stato turbato dalle parole di Suor Lucia, anche se nessuno sa con precisione che cosa gli avesse detto. Giovanni Paolo I è stato eletto nel 1978 ed è stato papa solo per 33 giorni e poi è morto in circostanze misteriose. Suor Lucia vive per 98 anni, ma non sapremo mai la sua versione della storia perché, come nel caso della suora che trova il cadavere di Luciani, è vincolata al silenzio. Ma la Chiesa non è la prima che cerca di impedirle di diffondere il suo messaggio. Nel 1917, il membro di un altro gruppo che teme moltissimo questa bambina di 10 anni e la sua profezia arriva a incarcerarla pur di impedirle di parlare. Stiamo parlando dei massoni. Sì, loro c'entrano sempre, vero? Ma torniamo a noi. Stiamo parlando di un sottogruppo della massoneria. A quanto si dice, i massoni mantengono tuttora una presenza discreta ma potente nel Vaticano. E c'è chi dice che questo sottogruppo possa essere dietro all'omicidio di Papa Luciani. Segui History su Twitter. Stiamo indagando sulla morte di Giovanni Paolo I, il cui pontificato è durato 33 giorni. Può dirci qualcosa di più sulle circostanze? È nel suo appartamento, lassù, all'ultimo piano, seconda finestra dall'esterno. La sua assistente, Suor Vincenza, gli porta la solita tazzina di caffè tra le quattro e mezza e le cinque. Posa la tazzina, poi dice che tornerà un quarto d'ora più tardi e quando lo fa, vede che il caffè non è stato toccato. Entra e nota che il Papa è seduto a letto e sembra addormentato e appare molto sereno. Per usare le sue parole, nota che non si muove. Allora gli tasta il polso e scopre che in effetti è morto. Ed è allora che dà l'allarme. A noi risulta che non stava bene, che aveva sofferto di cuore. In realtà stava bene, godeva di buona salute, era al massimo della sua forma fisica. Anche il fratello sostiene la stessa cosa poco dopo la sua morte. Anzi, i parenti rimangono sorpresi quando si parla di un attacco cardiaco perché in famiglia non c'erano precedenti a riguardo. All'epoca in Vaticano ci sono molte inchieste interne. Si mormora che i vertici della Chiesa ci siano dei massoni e lui è deciso a smascherarli. E una cosa simile avrebbe creato enorme scompiglio. Chi è che non conosce i massoni? Si tratta di una confraternita tra le più antiche e numerose, ammantata di mistero. Nata durante il Medioevo, questa organizzazione vanta tra i propri membri personaggi come Winston Churchill, J. Edgar Hoover, Harry Houdini e 14 diversi presidenti americani. Ma prima di attribuire ai massoni ogni sorta di nefandezza, chiariamo che non sono tutti irriducibili geni del male. Sì, ci sono fazioni più piccole e inquietanti. Una è accusata di esercitare nell'ombra un potere politico in debito e di praticare l'occultismo. Le teorie del complotto proliferano e collegano i vari rituali della confraternita a brutali omicidi e persino a orge sataniche. E dopo aver rivelato i segreti della confraternita, alcuni suoi membri muoiono misteriosamente. Voglio essere chiaro, è scorretto sparare nel mucchio e lanciare accuse generiche a un'intera organizzazione, che si tratti dei massoni o della Chiesa Cattolica. Ma se esiste un piccolo nucleo che ha rapporti con le persone più potenti del pianeta, si può capire perché il pensiero di massoni infiltrati all'interno del Vaticano sia a dir poco inquietante. Avrebbe smascherato i massoni? Parecchi membri delle gerarchie erano massoni. Naturalmente ciò non è ammesso dal diritto canonico. Non puoi essere un massone e un membro del Vaticano. Per impedire alla massoneria di assumere il controllo del Vaticano? Del Vaticano. La Chiesa è da lungo tempo in rotta con i massoni. Papa Leone XII definisce la massoneria il regno di Satana. Sapete perché? Il requisito indispensabile per essere un massone è di credere in Dio, uno qualunque. Non deve essere per forza il Dio dei cristiani, il che mal si concilia con la Chiesa. Inoltre, un massone deve giurare lealtà verso i suoi confratelli. Ma il Papa pretende prima di tutto lealtà verso la Chiesa. Come la mettiamo? All'inizio del Settecento, Papa Clemente XII minaccia la condanna a morte per i cattolici che entrano nella massoneria. Ma a quanto pare nemmeno questo funziona come deterrente. Si afferma infatti che i massoni abbiano accresciuto la loro presenza in Vaticano, al punto da spartirselo in otto aree di influenza, ognuna gestita da una diversa loggia. Ciò significa che ci sono potenti leader massonici con obiettivi potenzialmente diversi dalla Chiesa e in grado di influenzare le scelte effettuate dalla Santa Sede. Poi di colpo arriva il Papa e intende sbarazzarsi di tutti i massoni. Ora capite perché qualcuno può avere interesse a toglierlo di mezzo? Posso capire perché queste persone volessero morto Papa Luciani, ma addirittura arrivare ad uccidere un pontefice. Non avevano paura delle possibili conseguenze. Trattandosi dello Stato Vaticano, in effetti non è stata mai condotta un'indagine esterna sulla morte di Luciani. Non si può fare un'autopsia su un Papa, chiaro? Non si può fare in nessun caso. Non si possono fare autopsie. Quindi chiunque voglia sbarazzarsi del Papa sa che non essendoci nessuna autopsia può tranquillamente farla franca. Inoltre i suoi alloggi sono stati svuotati immediatamente. Gli imbalsamatori sono stati chiamati a cinque ore dalla sua morte. Il personale domestico è entrato e ha cancellato ogni traccia. Ho parlato con persone che affermavano che Giovanni Paolo I era stato subito cancellato dalla storia del Vaticano. Abbiamo uno degli uomini più potenti al mondo che è stato trovato morto e non c'è un'indagine. Nel giro di cinque ore viene imbalsamato? Di sicuro ci sono ancora molte domande senza risposta. Ma è interessante perché nel giro di qualche mese dopo la morte di Papa Luciani anche i procuratori, i magistrati inquirenti vengono trovati uccisi. Come? Anche gli uomini che stavano indagando sul caso sono stati uccisi? I pubblici ministeri italiani che stavano esaminando il caso vengono eliminati. Anche il giornalista Mino Pecorelli viene assassinato. È tutto molto, molto poco chiaro e la chiave di tutto è la morte di Papa Luciani. Sembra un effetto domino e che lui sia la prima tessera a cadere trascinando tutte le altre con sé. Sì. Se mettiamo insieme tutte queste cose sembra proprio che ci sia dietro un omicidio. Ne sono convinto. Direi che è uno scandalo enorme. per il Vaticano sarebbe stato una bomba atomica. I massoni all'interno del Vaticano hanno senz'altro l'opportunità e le risorse per insabbiare l'omicidio di un Papa ma dobbiamo ancora rispondere a una domanda fondamentale qual è esattamente il loro scopo e per scoprire il movente la prima cosa da fare è seguire l'odore dei soldi. Stiamo indagando sulla misteriosa morte del Papa Giovanni Paolo I che scompare dopo appena 33 giorni di pontificato. Molti ritengono che il pontefice non muoia per cause naturali ma sia invece la vittima di un assassino perpetrato dallo stesso Vaticano. Ma è davvero possibile che il Vaticano sia coinvolto in un atto così ripugnante? A quanto pare l'assassinio sarebbe solo la punta dell'iceberg. Stiamo indagando sulla morte di Papa Giovanni Paolo I e continuano a saltare fuori i massoni. Secondo lei qualcuno avrebbe voluto il Papa morto? Forse. Questo perché Giovanni Paolo I intendeva riformare lo Ior comunemente noto come Banca Vaticana cambiarne la gestione e liberarsi di certi personaggi. Dunque potrebbe esserci stato dell'astio tra Marcinkus che era capo della Banca Vaticana e il Papa. Monsignor Paul Marcinkus è uno spietato arcivescovo americano che guida lo Ior la Banca Vaticana. I guadagni dovrebbero essere usati per promuovere iniziative a carattere religioso e benefico. Ma Marcinkus ha frequentazioni discutibili. Non solo è un noto membro della massoneria ma a quanto pare ha anche legami con la mafia. Sì, ho appena messo nella stessa frase Vaticano, massoni e mafia. Una notizia che ho trovato e che pochi conoscono è che nel 1972 l'arcivescovo Paul Marcinkus obbliga la diocesi di Venezia a vendere la Banca Cattolica del Veneto e come sa all'epoca il patriarca di Venezia è proprio Albino Luciani, il futuro Giovanni Paolo I. Nel 72 essendo patriarca di Venezia Luciani è a capo della Banca Cattolica del Veneto. Marcinkus orchestra la vendita della banca senza consultare il futuro Papa trasformando così un'organizzazione benefica in un'azienda for profit. Non è solo un OPA ostile è un atto criminale. Il Papa era contrariato per la vendita della banca da parte di Marcinkus perché lo scopo della Cattolica del Veneto in realtà era quello di aiutare persone che versavano in gravi difficoltà economiche e all'improvviso lo IOR con la vendita delle azioni in suo possesso fa passare di mano la Banca Veneta e Marcinkus effettua alcune transazioni poco chiare. Riciclaggio? Questo non lo so per certo. C'è chi sostiene che lo IOR non sia altro che una serie di società che poi falliscono e va anche aggiunto che fino a poco tempo fa l'Istituto Vaticano è stato oggetto di numerose accuse di riciclaggio. Oggi sappiamo che Giovanni Paolo I tocca con mano la corruzione all'interno della Banca Vaticana dunque è possibile che la sua intenzione di fare pulizia e di allontanare i banchieri corrotti spinga qualcuno all'interno del Vaticano a mettere fine al suo papato prima ancora che cominci? Meglio di un romanzo anzi forse no ma come sappiamo sono le storie vere quelle più inquietanti. Trovo pazzesco che Papa Luciani possa essere stato ucciso pensavo fosse morto per un infarto e preferirei che fosse così. Io non ci credo più dico sul serio a voi non sembra una casa infestata dai fantasmi più che una chiesa? è straordinario più ne sappiamo più cambia la nostra percezione di questo posto. Avrei paura a restare qui di notte dico sul serio. Sta tranquillo. Ehi Brad come va? Sto bene come procede? Era deciso a denunciare l'appartenenza alla massoneria di personaggi di spicco del Vaticano e il loro coinvolgimento in uno scandalo bancario. Sono sicuro che gli omicidi e il riciclaggio non rientravano tra gli obiettivi della chiesa cattolica. Seguite la pista finanziaria e scoprite qualcosa su questo scandalo bancario. Ok d'accordo mi sembra ottimo. Ehi Brad di chi è l'appartamento con la luce accesa qui di fronte? Sì c'è un vecchio detto qualcuno lassù ci sta osservando. Il Papa è in casa stasera? L'uomo che vive lassù è la guida spirituale di più di un miliardo di persone. Questa gente merita un'indagine il più possibile precisa e obiettiva. D'accordo. Papa Giovanni Paolo I sale sul trono pontificio il 26 agosto del 78 e promette di stroncare la corruzione interna. 33 giorni più tardi viene trovato morto nel suo letto. Secondo alcuni ha intenzione di denunciare i massoni infiltrati nelle gerarchie vaticane e di rimuovere alcuni banchieri corrotti che avrebbero contatti con la mafia. Forse non sorprende che nessuno indaghi davvero sulla sua morte. Ora dobbiamo scoprire se Luciani è morto per cause naturali o se è stato ucciso e chi trarrebbe vantaggio dalla sua dipartita. All'epoca lo IOR la banca vaticana era una specie di banca offshore con sede nello stato vaticano quindi ci potevi aprire un conto e trasferire il denaro ovunque volessi senza che nessuno ne sapesse niente. La tua identità sarebbe stata protetta l'ideale per il riciclaggio di denaro sporco. La banca vaticana è appunto una banca quindi il suo obiettivo è quello di fare profitti e Roberto Calvi era l'uomo che cercava di aiutare lo IOR a massimizzare i profitti. Chi era di preciso Roberto Calvi? Era un banchiere molto affermato un uomo che aveva raggiunto grande prestigio nel settore aveva la classica fisionomia dell'uomo qualunque ma è riuscito a scalare rapidamente i vertici del management dell'istituto e si è guadagnato il soprannome di banchiere di Dio. Calvi viene definito banchiere di Dio a causa dei suoi legami col Vaticano. L'uomo gode di straordinaria influenza e potere all'interno del mondo finanziario ma sembra che grazie alla sua posizione in Vaticano Marcinkus l'uomo che ha trasformato un'istituzione a carattere benefico come lo IOR in una banca for profit possa far fare a Calvi tutto quello che desidera. E la sua banca finanziava l'opposizione in diversi regimi comunisti. sia in America Latina che negli stati europei del blocco orientale. Un momento il Vaticano alimentava segretamente conflitti su scala internazionale. Esatto. Ricordate il contesto eravamo in piena guerra fredda servivano capitali irrintracciabili e certe banche che potevano agire indisturbate riuscendo a trasferire capitali con grande rapidità hanno acquisito grande importanza. Una di queste banche era appunto lo IOR dunque questo sistema internazionale richiedeva sempre più soldi continue iniezioni di capitale. Dunque sta dicendo che Calvi aiutava la banca del Vaticano a riciclare il denaro. Esatto. È un'accusa piuttosto grave. Non a caso Monsignor Paul Marcinkus avrebbe dichiarato non si può governare la Chiesa con le Ave Maria. Servono soldi. La struttura stessa dello IOR sembra ideale per riciclare denaro sporco. Essendo il Vaticano uno Stato indipendente agisce come una banca offshore ed è libera da imposizioni fiscali regole o controlli. Inoltre Marcinkus sta trasformando istituti con finalità benefiche come la Banca Cattolica del Veneto in banche for profit quindi può trasferire facilmente il denaro avanti e indietro tra i due istituti di credito. Si ritiene che Roberto Calvi sfrutti questi vantaggi per mettere a punto affari loschi strani prestiti e transazioni illegali per il Vaticano. Tutto sembra funzionare a meraviglia fino al giorno in cui Calvi viene trovato morto. Il fulcro della vicenda è il rapporto che intercorre tra Calvi e l'arcivescovo Paul Marcinkus. Quando la Banca d'Italia ha cominciato a indagare su questa situazione la stella di Roberto Calvi ha cominciato ad offuscarsi. Quindi il Vaticano ha usato Calvi finché non è stato preso e a quel punto non gli serviva più a niente. Esatto. Stiamo arrivando al punto. Calvi viene usato come una marionetta per distribuire i fondi del Vaticano a gruppi terroristici come i sandinisti in Nicaragua mantenendo questi trasferimenti fuori dai libri contabili. I due creano un perfetto schema Ponzi. La Banca Vaticana istituisce società di comodo nelle Bahamas e in Sud America. Queste società chiedono prestiti raccogliendo capitali da altre banche internazionali e il denaro finisce tutto in un unico posto il Vaticano. Per farlo tacere lo avrebbero persino ucciso? Hanno ottenuto solo vantaggi dalla morte di Roberto Calvi e non erano gli unici che avevano interesse a eliminarlo. In pratica Calvi è stato assassinato perché sapeva troppo sui collegamenti tra tre realtà completamente differenti i massoni la mafia e il Vaticano. Siamo sulla strada giusta. Per Giovanni in questa storia non c'entrano solo i massoni ma anche la mafia. Sono tutti collegati a uno scandalo bancario e chi è il proprietario di questa banca? Il Vaticano? Ecco cosa succede. Quando Calvi capisce che l'enorme buco nei libri contabili sta per essere scoperto ha bisogno di soldi in fretta e tanti. E cosa fa? Oggi sembra accertato che sigli un accordo con la mafia per riciclare i proventi del traffico di eroina attraverso lo IOR. Ma come nasce il rapporto tra Calvi e Marcinkus nel bel mezzo di uno dei più clamorosi scandali bancari della storia recente? Beh, tanto per cominciare sono entrambi membri della stessa loggia massonica. A mio avviso qualcuno all'interno di una di queste tre realtà o tutte e tre queste realtà messe insieme aveva paura che Calvi potesse ricattare qualche figura di rilievo del panorama politico internazionale o qualcuno del Vaticano o della mafia minacciando di spiegare come funzionava il meccanismo. Giovanni, quale tra queste tre organizzazioni aveva più da guadagnare dall'assassinio di Roberto Calvi? Probabilmente il Vaticano. Come Michael dice nel padrino Fredo non ti azzardare a schierarti mai più contro la famiglia. Mai più. Con chi si è schierato Calvi? La mafia? La chiesa? O i massoni? Calvi viene incriminato ma riesce a lasciare il paese evitando l'arresto. La sua segretaria scrive una lettera che lo accusa e poi si uccide lanciandosi da una finestra. In seguito Calvi sarà trovato impiccato sotto un ponte a Londra. Nelle tasche ha dei mattoni e contanti in tre diverse valute per un valore di 15.000 dollari. Le circostanze della morte traboccano di simboli massonici. Si afferma che la loggia al centro dello scandalo si faccia chiamare i Black Friars ovvero i Frati Neri. E dove viene trovato il corpo di Calvi? Appeso al ponte dei Frati Neri. Significa forse che a ucciderlo sono stati i massoni? Non necessariamente. Secondo lei com'è andata? Chi l'ha ucciso? Probabilmente il Vaticano o la loggia massonica fanno eliminare Roberto Calvi da uomini della mafia o comunque da elementi della malavita. Quindi il Vaticano potrebbe essere coinvolto ma si è lasciato credere che fosse opera dei massoni o della mafia. Esatto. Come si ricollega tutto questo alla morte di Giovanni Paolo I? Papa Luciani era deciso a riformare il Vaticano. Probabilmente intendeva attribuire un ruolo diverso alla Banca Vaticana e al suo direttore Monsignor Paul Marcinkus. Questa vicenda inoltre ha dimostrato che i nemici della Chiesa potrebbero annidarsi proprio all'interno della Chiesa stessa come profetizzato nel terzo segreto di Fatima. Questa storia si fa sempre più avvincente. Chi può prevedere che il Vaticano ricicli per conto della mafia i proventi del traffico di eroina per coprire uno scandalo in cui sono coinvolti dei massoni e che alla fine un Papa venga ucciso? Nostra Signora di Fatima ecco chi la Vergine Maria. Questo spiegherebbe perché la terza profezia è stata tenuta segreta per più di 40 anni. Preannuncia la caduta del Vaticano per mano di nemici interni ed è per questo che Papa Luciani è così turbato dopo il suo incontro con Suor Lucia. Capisce di esserne il protagonista e sa che una volta sul trono pontificio qualcuno cercherà di ucciderlo. Dal possibile assassinio di un Papa e nel corso della nostra indagine abbiamo incontrato i massoni, la mafia e una celebre profezia. Ma la domanda è questa. È davvero possibile che il Vaticano uccida un Papa per proteggere le forze oscure che si annidano al suo interno? Buddy, Christine e Scott traggono le loro conclusioni. Che storia pazzesca. Non ha cambiato la vostra percezione del Vaticano? Sì, certo. In effetti sì, è vero. Discutiamone. Questo posto ha molti segreti, scheletri nell'armadio e dove ci sono degli scheletri ci sono anche dei cadaveri. Quindi, secondo voi, in Vaticano ci sono personaggi potenti che hanno a che fare con la morte di Giovanni Paolo I? Purtroppo sì, credo che le prove lo dimostrino. Quell'uomo stava per imporre delle riforme che a molti non sarebbero piaciute, il movente è chiaro. Niente autopsie, indagini approssimative. Come dicevano in certi film, la faccenda mi puzza, ricordate? È vero. C'è qualcosa in quei 33 giorni che trovo molto, molto sospetto. È triste pensare che il Vaticano possa essere implicato, ma d'altra parte la storia dello Stato della Chiesa presenta molti risvolti oscuri. In passato i papi sono stati spesso al centro di vicende inquietanti. Aggiungiamo poi che in questa vicenda compare anche la mafia e i massoni che spuntano spesso in questo genere di scandali e allora tutto è possibile. Sono stati coinvolti in questo scandalo bancario, parliamo di fondi neri a formazioni paramilitari, del possibile insabbiamento di un omicidio e a mio avviso c'è un precedente decisamente rivelatore. Assolutamente. Non mi sorprenderebbe se fossero coinvolti anche nella strana morte di Roberto Calvi. Per quanto mi riguarda durante la conversazione con Eric Walters mi ha turbato parecchio quando ha detto è già successo, a Roma è così che funzionano le cose. Sembrava dare per scontato il fatto che i papi vengono uccisi di continuo e già questo l'ho trovato inquietante. Secondo voi il Vaticano ha divulgato solo una minima parte dei tre segreti di Fatima? Non ho dubbi sul fatto che il Vaticano abbia dei segreti. Tutti quelli con cui abbiamo parlato ne sembrano convinti. D'accordo con Scott. Temo che le profezie siano spesso apocrife o scritte dopo gli eventi molto opportunamente. Certo. In questo caso potrebbe essere vero. Potrebbero aver manipolato il testo originale perché la Chiesa non ne sarebbe uscita bene. Sì. Sì. È questo che mi preoccupa. C'è un'entità che non deve rispondere a nessuno del proprio operato ad eccezione del grande vecchio. Un'enorme macchina fabbrica soldi. E pensate che non la proteggano ad ogni costo? Qualsiasi organizzazione altrettanto autorevole da cui dipendono così tante persone deve avere dei segreti. Ricordiamoci che il Vaticano è composto da uomini di Chiesa. Ciò significa che sono esseri umani e gli esseri umani fanno errori. Possono peccare. Tutto sta a capire se sono pronti a pentirsi, a chiedere perdono e a ricominciare. Finché la Chiesa sarà gestita da esseri umani, cose del genere continueranno ad accadere. Rispecchia l'umanità nel suo complesso. Mi sembra una giusta osservazione. La cosa interessante di questa intricatissima vicenda, a mio avviso, è questa incredibile concentrazione di poteri occulti, omicidi, intrighi e al centro di questa incredibile confluenza c'è proprio il Vaticano. Sono d'accordo. quando abbiamo iniziato non avrei mai immaginato che avremmo visto coinvolti nella stessa vicenda la mafia, la massoneria e il Vaticano. Una vicenda che ha portato a un omicidio. Come hai detto giustamente d'ora in poi non potremo più guardare quel cupolone allo stesso modo. Ok, passiamo alla prossima. Incredibile. È fuori di dubbio che il Vaticano abbia fatto del bene per moltissime persone in tutte le parti del mondo e continua a farlo ancora oggi. E naturalmente il miliardo di fedeli della Chiesa Cattolica merita la massima trasparenza. Ma quando un'istituzione sembra fatta apposta per custodire dei segreti gli uomini e le donne che ne fanno parte sono indotti in tentazione. Non sono i governi a mentire e nemmeno il Vaticano. È la gente. E non importa se siete un uomo di Dio o di scienza perché alla fine dei conti siamo solo esseri umani. Siamo imperfetti e spesso sbagliamo. Diventiamo avidi e a volte corrotti. Ma possiamo anche dare prova di coraggio essere di esempio possiamo ottenere traguardi mai visti. Non è facile riformare una delle più potenti e antiche istituzioni del mondo. Ma non posso fare a meno di chiedermi cosa sarebbe accaduto se Papa Giovanni Paolo I fosse vissuto e avesse imposto alcune delle riforme che aveva in mente. Quanto potrebbe aumentare la potenza del Vaticano si operasse nella massima trasparenza e spalancasse le porte ai propri fedeli senza nascondere più nulla? questo forse è il segreto meglio custodito della Chiesa.